Ok, facciamo anche questa. Siete connessi con Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Coloro che sono attratti dalla non violenza dovrebbero, ciascuno secondo le proprie capacità e possibilità, partecipare all'esperimento. Siete connessi con Gigi D'Agostino, ogni giorno, ogni giorno, alle due del pomeriggio. Alle due del pomeriggio. Su M2O. Comincia la storia. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Su M2O c'è il cammino di Gigi D'Agostini. Grazie a tutti. 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 destino. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. su M2. a tutti. 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 che... a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. 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 a tutti.